Buongiorno, siamo un buon appetito di Tosca e presentiamo Riboli, una tipica sopa di toscana preparata con pezzi di canna e salata in l'acqua per una niente, due giorni di pane di Tosca, non di salata, è meglio, caccia di canna, 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 caccia di canna e di puree. Ora vi spiegherò tutti i quanti necessari per avere un buon appetito. Prima di tutto, dobbiamo cuocere i canni di canna e di puree. Poi le mettiamo in un pollo di puree e le cuociamo. Prima di tutto, dobbiamo cuocere i canni di canna e le mettiamo su un buon appetito per circa un'ora e mezza. Ora vi spiegherò i canna. Poi iniziamo i canna. Poi uscigliamo i canna. con le lettere, senza usare le lettere, usare solo le stocche usare circa tre stocche di cellulare ok, questo è tutto questa è la base e usare tre stocche, come questo potete usare il bianco o il rosso, è lo stesso e poi usare questo qui abbiamo i sali, i caroli e gli olio lasciamo tutto in piccoli e regolari e i piedi questi sono le mani necessarie potete usare tutti i ingredienti, dovete usare tutti i ingredienti sulle stelle stelle e poi il olio in il medio e poi questo le strane per la base e mettiamo tutto in un pozzo perché dovremmo mettere tutta l'acqua in un pozzo ma questo è il prossimo passo poi, dopo aver tagliato tutte le strane possiamo aggiungere l'olio extravergine l'olio extravergine l'olio extravergine 5 cm l'olio extravergine l'olio extravergine è producita qui, nella villa ora possiamo mettere tutti i ingredienti sull'olio nel senso tempo i nostri vegetali potremmo uscire il sapore e la 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 la